Sì, è fantastica, sei bellissima, ma perché è quella? Perché è la forzetta così lì? Non è molto televisiva, non l'ho già detto, forse. Già, mi la devo dire, ma come a Sanremo vanno i cipi? Non ci posso credere, fino a Sanremo, allora, ecco. Ma questo comincia, sì, Presidente, allora, allora, in diretta dall'Ariston, questo nostro frigorifero a Ariston, che è sempre... Il Presidente è il primo concorrente, che è il G. Riccardo. G. Riccardo, bene, G. Riccardo! No, non è il nome di Riccardo, non ha la faccia di non sia neanche questo qui, neanche questa è il G. Riccarda, no, per carità. Scusate, non stai, G. Riccardo, grazie. Se è perso di stare in freezer, dov'è, G. Riccardo? Buongiorno, ti vuoi incalato. La febbra, la febbra, io voglio fare il pebbra. E quant'anni ha? 73. Eh, guardate che ci si... ecco, vedete che conviene a stare nel frigo libro chiusi? Ecco, guardate come ci si viene bene. Guarda la tua, però. Allora, caro G. Riccardo, quale canzone ci presenta? Noi presentiamo un pezzo della campagnola, perché è troppo lunga, a me ne lo dico. Eh, non dica le cose segrete degli autori, dopo lo fanno un pezzettino. Come si è trovato nel frigo libro con uno, due, tre, quattro elementi? Ma va, non ricorire se sta in amore, perché non qui non si è... Il pezzo di saggezza, che bravo! Perchè la campagnola, prego! Che è per la capa che c'è la campagnola... Che è per la capa che c'è la campagnola... A parte a fuori con quella campanola, con bella campanola, campagna lavorare. A parte a fuori con quella campanola, con bella campanola, campagna lavorare. A parte a fuori con quella campanola, con bella campanola, campagna lavorare. Dove va? Riccardo, non posso, mi la starremo con la bacciata, però ci vengo. Lei è grande. E poi ho notato che a starmi il frigorifero, pure a 70 anni, uno nota quelle cose della campanola. Ah, come si, ma non è già, perché è bella campanola? Eh, ma va bene. Come è tutto il tempo? Eh, sì, cosa sta per dire, Riccardo? Sì, volevo dire che principalmente noi, della Damorla, bisogna, noi che speriamo, tu ho composto un bel anato e l'oro. Ecco. Il monumento, il parola, quindi non è un'altra cosa. Tra poco devo riuscire, da dedicando, devo riuscire tra poco, mi piace. Ad Damorla è un matemma, l'accarizzo è più dolore. Pensare un'altra cosa con l'inizio, meno male, lo spiegato prendo a Damorla e con la Femmeras, più accarizzo è più pensare un'altra cosa. Meno male che non avviene. Torno a Napoli. Adesso, te la ciascanevi, ci sarà per me qui, sta, vado a Napoli, vado a Napoli, vado a Napoli. Che cosa c'è? Abbiamo un collegamento con Melanquenau, un tentativo, intanto però un applauso a Gaetano Ambrosio, fiorista. No, non ti posso.